Bassano del Grappa entra nell'era dell'intermodalità, inaugurato oggi e proprio di fianco alla stazione ferroviaria un nuovo parcheggio, il Metro Park completamente automatizzato, 100 nuovi posti auto a cui vanno ad aggiungersi altri 150 posti dall'altra parte della ferrovia. E così piano piano un comparto di città sempre ingolfato e degradato, l'area di Via Parolini si è trasformato in un'area di servizio multifunzionale che comprende un parcheggio nuovo fiammante e sorvegliato, attivo 24 ore su 24 e alla non troppo modica cifra di un euro all'ora la nuova stazione degli autobus e il collegamento con altri parcheggi della zona. Fiumi d'asfalto certo che però scorrono inevitabili in un abbassano che vuole tenere il passo con le migliaia di vetture giornaliere che transitano per la città senza rinunciare alla comodità. Sono tutti elementi questi che oggi sono moderni, utilissimi per la nostra gente, se pensiamo fino a 5-6 anni fa cos'era tutto questo comparto che vediamo oggi? Il parcheggio che accennavo un attimo fa, di là dei binari, era tutto compromesso, era un'area dismessa. Oggi possiamo dire che è un'area tutta utilizzata in maniera moderna nel senso che accoglie le richieste della cittadinanza e soprattutto le manchevolezze dei parcheggi che sono sempre le situazioni più evidenti in tutte le città. In attesa che i treni arrivino in orario, le ferrovie dello Stato potenziano le aree cittadine in cui aspettare i convogli perennemente in ritardo. È questa l'intermodalità che, ironia a parte, può davvero risolvere alcuni problemi di viabilità infracittadina attorno agli snodi strategici delle stazioni a punto, ma anche migliorare, se non la qualità dell'aria, almeno la qualità di vita degli automobilisti in perenne ricerca di un parcheggio e i forzati delle rotaie. Una migliore accessibilità alle stazioni, dando come offerta piazzali, per esempio, destinati all'interscambio con maferro, più attrezzati, più vicini, più sicuri parcheggi, come nel caso dell'inaugurazione di oggi, che aumentino l'offerta di sosta e quindi consentano l'interscambio anche tra il mezzo privato ed il treno.